quando si parla di abruzzo il primo vino che viene in mente è sicuramente il montepulciano però da qualche anno è nata una doc a sestante stessa origine ma colore rosato io sono francesco questo è the wine channel e oggi vi parlerò di bella torre cerasuolo d'abruzzo di citra citra è una realtà di ortona in provincia di chieti che si dedica alla produzione di vini partendo dalle uve tipiche dell'abruzzo in particolare cura questa linea chiamata bella torre che comprende tre prodotti un montepulciano un trebbiano e il cerasuolo di cui parliamo oggi come potete vedere dalla scheda questo vino è prodotto con 100% uve montepulciano la gradazione alcolica è di 12 gradi e la nati degustazione è il 2017 la particolarità del cerasuolo che condivide con il lambrusco di sorbara è quella di poter ottenere questo colore lasciando l'acino intero quindi senza levare le bucce in fase di fermentazione e questo conferisce quindi il colore di cerasa quindi di ciliegia da cui prende il nome ma saprà accontentare anche il palato lo scopriremo con la degustazione dopo aver visto più da vicino l'etichetta ed eccoci a vedere più da vicino la nostra etichetta c'era solo d'abruzzo citra ricordo che questo cerasuolo ricade nella denominazione più ampia commerciale di bella torre che ricomprende anche un montepulciano e un trebbiano tre classici vini abruzzesi questa etichetta bianca con in fondo questo paesaggio stilizzato questo profilo di questo paesaggio stilizzato anche una forma insolita per l'etichetta andiamo a girare la bottiglia per vedere le indicazioni obbligatorie di legge dove troviamo appunto la denominazione cerasuolo d'abruzzo la gradazione alcolica di 12 gradi e l'anno della venemia che in questo caso il 2017 in fondo viene riportata appunto in una parte dell'etichetta che con un colore che ricorda quello del vino una serie di caratteristiche salienti che poi andremo a ritrovare in degustazione che dire etichetta molto classica questo tono dato da questo profilo del paesaggio la rende sicuramente accattivante faccio notare solo sul collo della bottiglia il simbolo di del consorzio di tutela appunto dei vini d'abruzzo unione di cantine che si prefigge appunto la salvaguardia della tipicità dei vigneti abruzzesi bene dopo aver visto come sempre l'etichetta passiamo alla degustazione e poi all'assegnazione dei classici voti e partiamo con la nostra degustazione come sempre dal colore che non può essere altro che questo rosso ciliegia brillante che appunto ha anche il nome al nostro vino sentiamo al naso si sente ovviamente un richiamo alla ciliegia alla fragola e una nota di fondo di mandorla andiamo a sentire al palato vino secco morbido con un gusto delicato e armonico con appunto la nota finale di retrogusto di mandorla che abbiamo sentito al naso bene dopo averlo degustato passiamo ad assegnare i classici voti per quanto riguarda la fascia di prezzo questo vino prende una bottiglia su cinque si trova in vendita fra i 6 e i 7 euro alla bottiglia che è un buon prezzo per un buon vino da tavola si trova facilmente nelle catene della grande distribuzione valutando la versatilità questo vino merita 4 bottiglie su 5 si presta a diversi piatti pesce legumi carni bianche e formaggi si può abbinare anche a primi piatti leggeri come ad esempio un bel piatto di spaghetti al pomodoro ma adesso vi voglio sorprendere è un ottimo abbinamento anche per la pizza avete in mente una serata in compagnia con una bella pizza anche al metro il cerasolo d'abruzzo è sicuramente un'ottima scelta il voto per la facilità di beva è di 3 bottiglie su 5 è un vino piacevole che si presta ad essere bevuto anche tutti i giorni in quanto non stufa e può essere apprezzato anche dai palati meno allenati sicuramente non è un vino complesso o che regala grandi emozioni ma è un giusto compromesso la temperatura di servizio è fra i 12 e 14 gradi e arrivando al giudizio complessivo e come sempre personale su questo vino assegno 3 bottiglie su 5 è un cerasuolo entry level cioè per provare questo prodotto e poi eventualmente passare a bottiglie più blasonate di sicuro vi stupirà la sua versatilità in cucina in quanto lo renderà un ottimo abbinamento per diversi piatti vi lascio il link come sempre a cantina citra per poter visionare altri loro prodotti bene e per oggi la nostra degustazione termina qui se questo video vi è piaciuto un mi piace è gradito se avete qualche dubbio o qualche perplessità fatemi le domande sotto nei commenti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e condividetelo con amici, parenti e colleghi di lavoro o chiunque fosse interessato al mondo del vino vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni la prima è che i minori di 18 anni non devono bere la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel ciao